Ciao Giali Carni, allora oggi è un altro giorno, è l'alba di un nuovo giorno, sì mi stavo denudando Oggi c'è ItaTube, oggi è il primo giorno di ItaTube e sono molto felice, mi sono alzata alle 5 di mattina Perché io sono molto agitata in questo caso Stiamo in anticipo di non so quante ore, perché ho appuntamento con Giadina alle 10.20 Dobbiamo star lì per le 10.30, sono le 9.12 as always Stiamo andando e siamo sempre là in un tipo di tipo 78 ore, ma va bene così Anche se passiamo qualche metro, comunque sono sempre più agitata, più tempo passa, perché la mia vita è una vita fatta di stress Non è arrivata in metro con la mia bae, che è anche la vale E' ben arrivata questa bellezza Ogni volta gli dico, non devi vestirti da figa, perché dopo io ci rimango male E lei cosa fa? Si rossa una figa Adesso dobbiamo andare a ritirare il pass Non potete capire l'ansia di vivere che ho addosso Io e la Giada siamo arrivate Il problema è che la Vicky ci deve dire dove dobbiamo andare perché non abbiamo la più pallida idea Sì perché sento dei rumori Qua mi ricordo, io ero qui in fila l'anno scorso La magnifica coppia è sempre qui In ogni posto in cui andiamo io e Giada ci ritroviamo sempre io e Giada Siamo sempre la famosissima coppia Lui Clissa non esiste più Clissa è love Clissa è proprio canon Invece noi siamo le miglior amiche di Youtube Allora noi siamo qui E io vi dico che cosa vi posso dire Sto cercando di pensare a qualcosa da dirmi ma non mi viene niente da dire se non che ho un caldo boia Non so nemmeno se già riesco a mettere a questo bello Ho un caldo mai visto La Vale se ne è andata a casa alla fine Adesso sono ancora con la mia Giada E arriva la Cleo E sono anche con la mia Giada La scena è stata Io ieri sono andata da parrucchiere E lei anch'io Anche io comunque Io mi sento La Cleo Non ti sentassi ancora che tu ti senti bassa Si no io non ti senti bassa Un saluto al papà di Giallissa che è il papà di tutti i giallicorni come noi ragazzi Giallicorni Like Gialli Iscrivetevi al The Show ragazzi Ah era un'infiltrazione Io vorrei tanto sapere perchè ogni volta che decido di vloggare La Cleo improvvisamente decide di Teleporare qualcuno Nel nostro eclista shift Va bene Cleo mi muove bene La domanda del giorno è Stiamo ancora insieme Si no? Forse Hello there Eravamo io Cleo E Laura Perché ti confondo con Laura E' un tipo di One Direction che li ho capito in 5 mesi Ovviamente la Giada e tutti Eravamo qui A registrare Alla fine mi ho capito che era un po' impossibile Nice to meet you where you been I could show you incredible things Magic, madness, heaven, sin Ciao E' stato un piacere Sì Loro sono i nostri compagni di camerino Assolutamente sì Fanno parte del nostro ghetto Allora Troppo con io e la Cleo Che è la Dobbiamo andare a presentare I emergenti Nel mio vlog In diretta Si, tipo 50.000 vlog insieme Ciao E sono molto felice Assaggio E' schifo E' troppo Inacquata Recensione Più acqua A canna o a bicchiere A canna Giù, 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 giù Com'è questa acqua? Quanto limone, c'è poco limone Da quello che mi ha capito non è rimasto più in mezzo Gruppo delle magnitiche, cioè Gialissa, Gianneda e Cleo Un po' dei casino Adesso andrà a presentare gli emergenti, beh in teoria sono le plissa Insieme a quello che siamo? Allora, cosa siamo qui a fare oggi, Cleo? Oggi vi faremo conoscere degli youtubers emergenti Ciao, che bella che sei E tu hai l'italiano in realtà Giulia e Zami Non manca un gignone Sì, un Zami che è un ragazzo che mi ha abbandonato Ah, è un canale col tuo ragazzo E quindi è momento di Umberto Ciao Umberto! C'è principalmente video random, video che comunque mi piacciono In genere un tema fisico Raga è un pazzo È un pazzo È proprio E quanti anni hai? 13 Quelli che ho già visto Quelli che ho già visto Quelli che hanno Sì Questi ritrovamenti Potete ritrovare, potete viste di vario tipo Potete ritrovare prank e glow Ciao Sara Ciao Dali Perché hai capelli blu? Perché mi piacciono Bellissimi Da quanto tempo hai aperto il canale? Sì Vuoi facciamo una foto insieme? Sì Questo ragazzo era con me a Romics E l'ho rivisto anche a questo giro e sono molto felice perché è uno dei miei gamers preferiti Anche se mi ha detto che non è più molto gamers però Sono una che ti penso Nel mio cuore rimarrai sempre Grazie Di nome del tuo canale completo Perché non lo so Tieni Ciao Io sono tipo un infiltrata speciale in questo mondo Vuoi dire ciao al mio vlog? Buongiorno vlog Ma io e la Gio Degler ci stavamo annoiando Allora siamo andate fuori per l'entrata a quella dove entriamo Per vedere se c'era qualcuno che ci seguiva E c'era qualcuno che ci seguiva Solo che io non avevo portato la videocamera E adesso che l'ho portata c'è meno gente però voglio farvela vedere lo stesso Troppo buono Finalmente la metto in un vlog Ciao Ci siamo viste tipo qualcosa come 300 per 8 volte Ma il vlog ma stavolta si c'è e ce la siamo Ce la siamo un po' Ce la siamo un po' Ho lasciato la canna In scarica a casa No L'etatube è proprio il posto dove devi vloggare Eh ma ho deciso ieri sera alle 11 e mezza di venire Siamo nel nostro camerino Finalmente popolato da qualcuno Ma quello nella foto? Si Ciao Presentati Sono qui E abbiamo piacere essere qua con queste bellissime ragazze E bravissime Non vorrei dire ma ho l'esclusiva di questa cosa Guarda una ragazza può sentire due ragazzi che cantano così Cioè credo che sia il solito di una ragazza E a me è successo E se ti invitato più faccio non esco nessuno Puoi dare se sei bello o brutto Se ti vesti o pietà lo stattone e fighetto Sarò sincero se non me ne frega un cazzo Se papi ti ha comprato l'iPhone 6 oppure 4 Perché la donna qui vorrò più bene La mia occhia è la persona che è Non perciò che fossi è Grazie Che sei l'amore Vieni lo so E veramente sto Ho tutti i file qua in rielaborazione Che adesso devo elaborarli Devo montare il video Domani prometto di cercare di vloggare di più Anche perché non ho vloggato il Meet Perché era un casino Domani prometto di vloggare più cose legate a Itatube Rispetto che le persone Lo prometto Quindi voi lo vedete sabato però Niente questo è il video